Di lavoro si deve vivere, non morire. Eppure gli incidenti sono tanti, troppi, anche nella nostra regione, per non focalizzare l'attenzione su sicurezza e prevenzione coinvolgendo tutte le parti interessate. Così prosegue il tour della UGL dal titolo La sicurezza e il tuo futuro. Stamani a Pescara sono stati resi noti i dati dello studio 2022 su incidenti e decessi. In Abruzzo 16 morti con un leggero decremento solo per l'effetto Covid, ha spiegato Gianna Diamicis, serietaria regionale UGL, per l'utilizzo dello smart working e della cassa integrazione. Ma con la ripresa delle attività, soprattutto nei cantieri, i numeri già a metà 2023 hanno avuto un picco. I numeri detti così nel 2022 abbiamo avuto 16 decessi in Abruzzo. Sembra un po' così freddo. In realtà poi ci sono come incidono questi morti sul lavoro. Dobbiamo dire che dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo purtroppo in Abruzzo già abbiamo 11 morti più i due che sono accaduti da poco. Si investe poco? Probabilmente sì. La formazione è carente. Altro dato interessante è quanto incidono i morti sul lavoro sul PIL ha una percentuale molto forte. Questi dati che noi abbiamo cercato di mettere insieme e soprattutto lo stiamo distribuendo tutta Italia, regione per regione, cercando proprio di partire dal sindacato che si faccia qualcosa in più rispetto a quello che finora è stato fatto. Forse vanno educati anche i giovani? Certamente sì. Infatti un altro progetto prosegue di Amicis è quello di portare la sicurezza, le leggi e quant'altro proprio nelle scuole. Tornando poi allo studio della UGL. Abbiamo calcolato l'incidenza dei morti sul lavoro rispetto alla popolazione e rispetto agli occupati. E a proposito per l'incidenza l'Abruzzo si colloca al 14esimo posto in Italia con la provincia più colpita in tal senso che è quella di Teramo. L'UGL porterà avanti questo tour. Proprio per questo l'UGL si sta dando veramente da fare per cercare di trovare non la soluzione perché non abbiamo soluzioni ma di vedere e di incidere anche sulle coscienze.